Io oggi sono qui per presentarvi un nuovo metodo di insegnamento a livello teorico della classica scuola guida. Ora noi siamo sempre stati abituati alla persona che vi diceva ok arriviamo alla pagina 25 perché oggi facciamo le precedenze. Bene ragazzi oggi questa cosa cambia per poter rendere più partecipe voi nella lezione. Lezioni di scuola guida in 3D. Voi siete i primi a provarlo perché la figata prevede l'utilizzo di questo. Cosa vedi? Dimmi cosa vedi? Una macchina rossa sono sulle strisce per domani. Alzati in piedi. Secondo me se ti alzi in piedi. Allora voglio vedere una macchina, una golf blu passare. Quanto è topra? La macchina qua che mi indica la freccia dove girare. Ok cosa noti? C'è un cartello sulla macchina rossa giusto? C'è un cartello dove deve girare, un divieto d'accesso. Ok quindi è un divieto d'accesso o un divieto in transito? Vieto d'accesso. Oppure nella realtà aumentata. Sarà molto semplice poter fare una lezione con la realtà aumentata perché tramite questi semplici fogli vi faremo vedere cosa intendo io per realtà aumentata. Basterà aprire una certa nostra applicazione ovviamente che sarà un'applicazione che ancora non trovate sullo store ma sta per arrivare. Scegliere l'immagine di cui io insegnante vi darò. Posizionarlo sul foglio che vi ho dato e guarda che per magia compare un dosso. Posso alzare o abbassare e vedere da ogni dove in questo caso il dosso quindi poter parlare fisicamente del dosso. Quindi venite a lezione con il vostro telefono e si farà lezione con questo e sul foglio. Gli allievi sono felicissimi cioè fare la lezione con l'arte virtuale per loro diventa quasi un gioco cioè non gli pensa più neanche più seguire la lezione di teoria. E siamo felicissimi perché essere i primi in Italia se non in Europa a iniziare a questo tipo di lavoro.